Dopo aver lavorato un po' sul mio ebook, vorrei vedere come appare questo all'interno di uno scaffale di una libreria elettronica. Per fare questo, lo apro con Digital Edition, che mi permette, attraverso il comando Copia nella libreria, di vedere come apparirà all'interno dello scaffale. Scopro che ho un documento con un titolo completamente errato, autore sconosciuto e senza copertina. Andiamo ad aggiungere questi elementi. Apro InDesign, apro di nuovo il mio documento originale e vado prima di tutto a caratterizzare il documento con dei metadati. Dal menu File, richiamo la finestra Info File e vado ad impostare tutti quei dati aggiuntivi che non sono parte del testo ma che lo caratterizzano. Il titolo, l'autore, non so se è esattamente scritto così ma ci fidiamo. E un po' di descrizione. Queste sono le cose più importanti. Importanti anche le parole chiave, in realtà. Eventualmente lo stato del copyright e altri dati. Per l'ebook, comunque, sono fondamentali il titolo, l'autore, la descrizione e le parole chiave. Queste saranno utilizzate all'interno del negozio online per ricercare questo testo. Confermo le modifiche e vado ad esportare il mio e-pub nuovamente. Un'altra caratteristica che mancava era la copertina. Piuttosto che rasterizzare la prima pagina, che è la funzione di default di InDesign, vado a caricare un'immagine che ho già preparato. Vado a scegliere il formato JPEG e trovo la mia cover. Questa sarà l'immagine che verrà usata per la copertina. Per le immagini va bene così. Per le avanzate, devo fare attenzione a includere i metadati del documento che ho appena inserito. Qui posso inserire l'editore. Mettiamo teacher in a box per questo titolo. E qui InDesign genera un numero univoco che in realtà corrisponde all'ISBN in un flusso di lavoro editoriale standard. Confermo. E vediamo che adesso l'e-book ha una copertina. È stato generato un XHTML apposito. Andiamo a vedere i metadati. Ci sono i metadati che ho inserito all'interno. titolo, autore, eccetera. Possiamo andare a vedere adesso come risulta questo e-book all'interno della libreria digitale di Adobe Digital Edition. Aggiungiamo anche questo nella libreria e andiamo a vedere la differenza tra i due. Quello precedente e quello attuale. In questo caso abbiamo la possibilità di vedere la copertina e di fare delle ricerche all'interno di un eventuale negozio online dove vorremmo porre in vendita questo volume. e quindi